Restano in carcere i tre ladri arrestati alle 21 di sabato a Verbania dopo un rocambolesco inseguimento da parte dei carabinieri. Il GIP questa mattina ha convalidato l'arresto disposto alla misura cautelare in carcere. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini del nucleo investigativo di Verbania, ma sarebbero più di dieci furti commessi nel Verbano dalla banda di giovani albanesi domiciliati nel milanese. I militari erano da tempo sulle loro tracce, sabato erano tornati per colpire svaliggiando due appartamenti a Cambiasca e uno a Verbania. E' stato organizzato un posto di blocco al quale però la Ford Focus sulla quale viaggiavano i tre non si è fermata. E' così scattato l'inseguimento che si è concluso con un incidente. L'auto pirata dopo aver tamponato alcuni veicoli si è scontrata con un furgone dei carabinieri speronandolo. I tre sono stati arrestati, uno di loro si è ferito leggermente ed è stato chiesto l'intervento del 118. Parte dell'area furtiva è stata recuperata a bordo dell'auto ma alcuni gioielli e orologi mancavano l'appello.